per la cima per la cima aveva la stessa corda una volta si buttava nei capri al mare oppure perchè l'acqua del mare per le ferite per le pie che fa e aveva grafamento per le acce a tutto un senso le acce per le zamboni e per le ceramiche con le carne mi facevano la sperlonga tre apinti al sole del mare prendevano il sale sono tutti e presto sono tutti e presto sono tutti e presto poi mentre che tu bevevi con la canna se non puoi saltare non ti misete ecco perché stiamo facendo cosa hai bezzato non lo proviamo ma lo proviamo fate una suonatetta buona mi metto qua dammi la conoscenza sì bravo ma ma come ma ha ma non Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.